Il tuo business sta crescendo alla stessa velocità di quella di un dromedario? Allora in questo video ti mostrerò tre strategie da implementare che molto probabilmente stai trascurando oppure implementando in maniera inefficace. Se questa è la prima volta che vedi uno dei miei video, io sono Sunny Vince e dal 2016 aiuto imprenditori e liberi professionisti in tutto il mondo ad attrarre clienti online in modo prevedibile, automatico e scalabile. Se il tuo business ora non sta crescendo velocemente come vorresti, la prima strategia che stai trascurando o implementando non efficacemente è quella dell'onnipresenza. Prendiamo come esempio McDonald's o Starbucks. Perché secondo te sono sempre pieni di clienti? Forse perché hanno il miglior prodotto? O forse perché il servizio è migliore che in altri posti? No, il motivo è molto semplice. Sono ovunque, sono in ogni angolo della città, sono onnipresenti e lo stesso devi fare tu. Devi fare in modo di essere estremamente visibile ai tuoi clienti su tutti e quattro i canali più importanti online. Facebook, Instagram, YouTube e Google. Se non lo sei, la tua concorrenza che invece lo è, avrà sempre più facilità ad attrarre nuovi clienti e il loro business esploderà, mentre il tuo collasserà. La seconda strategia che stai trascurando o implementando non efficacemente è quella della pubblicità. Hai mai visto un business di successo che non fa pubblicità? No. Infatti, se non fai pubblicità, vuol dire semplicemente che non hai un business, ma un hobby. Forse ora stai postando su Facebook, caricando foto su Instagram o video su YouTube, oppure scrivendo articoli sul tuo blog, ma nessuno sta comprando il tuo prodotto o servizio. Perché? Perché senza fare pubblicità tutti questi canali sono pressoché inutili e anche nel caso in cui dovessero funzionare, è un processo estremamente lento e richiede enorme quantità di tempo investito. Quindi, se vuoi acquisire più clienti e acquisirli più velocemente della tua concorrenza, non puoi esimerti dal fare pubblicità. La terza strategia che stai trascurando o implementando non efficacemente è quella del giusto messaggio per il giusto target. Forse ora stai pensando, ma io faccio pubblicità, sì, ok, ma molto probabilmente non è vista dai tuoi clienti ideali oppure il messaggio nella tua pubblicità non è abbastanza persuasivo. Immaginiamo ad esempio che tu abbia un ristorante di carne, allora non potrai mostrare la tua pubblicità a vegetariani o vegani. E allo stesso modo, parlare di pizza o pasta nel tuo messaggio pubblicitario non porterebbe sicuramente più clienti in target nel tuo ristorante. Dunque, i due fattori più importanti per una pubblicità vincente sono giusto target e giusto messaggio per quel target. Se anche solo uno di essi è sbagliato, la tua pubblicità fallirà miseramente e butterai decine, centinaia o anche migliaia di euro. Quindi, se vuoi imparare a diventare onnipresente online, iniziare a fare pubblicità e farla in modo efficace, così da poter attrarre più clienti ideali per il tuo business in modo prevedibile, automatico e scalabile, allora voglio invitarti alla mia presentazione gratuita dove ti mostrerò esattamente questo passo per passo. Basta che ora clicchi sul link o sul bottone da qualche parte intorno o sul video e potrai così registrarti, prima che si esauriscano tutti i posti disponibili. Ci vediamo lì! Ciao! Ciao!